Professionalità e competenza al servizio dei clienti. La D'Antoni Ascensori SRL è leader del settore e realizza impianti moderni ed efficienti sia idraulici che elettrici. Monta carichi, monta auto, servo scala per qualsiasi esigenza di movimentazione di cose e persone. E provvede alla manutenzione con la massima celerità con un servizio attivo 24 ore su 24. D'Antoni Ascensori, Cava dei Tirreni, via 25 luglio 277. Era previsto per i prossimi 13 e 14 luglio il blocco del servizio di raccolta dei rifiuti in Campania come in gran parte delle città italiane. Lo sciopero nazionale è stato scongiurato grazie all'accordo sul rinnovo del contratto nazionale di igiene ambientale raggiunto domenica in tarda serata. Una trattativa non poco difficile che ha visto attorno al tavolo di confronto CGL Cisle Will con Utilitalia e i delegati nazionali. Molte le battute d'arresto durante la ricerca dell'accordo perfetto. A far quadrare il cerchio alla fine sono stati gli aumenti legati alla produttività e alla flessibilità con tutela dei posti di lavoro, degli appalti esterni e della sicurezza. Più tutela per i dipendenti, questa la principale richiesta dei sindacati, insieme ad un'attenzione maggiore per gli accordi esterni, per le integrazioni e i cambi d'azienda e in particolare più sicurezza sul lavoro. Con questi punti all'ordine del giorno è stato così allontanato il pericolo dello sciopero nazionale del servizio di raccolta, che avrebbe messo in ginocchio parecchie città dello stivale, soprattutto considerando che al caldo della bella stagione il proliferare dei batteri e spiacevoli cattivi odori è inevitabilmente in aumento.